Per chi ti ha lasciato un belga? Ma che cosa fa? Mi abbraccia? Te l'ho detto che belga Ma che cazzo c'entra? Certo che il tuo amico tiene la sua età, eh? Magari Alma si aspettava qualcosa di diverso quando l'ha detto ti presento un amico Magari pure qui si aspettava qualcosa di diverso da Peppa Pig Che cosa sta facendo, zia? Niente, dall'altra parte c'è uno che le interessa Ma di... Non è che avresti dello zucchero? Una così non ti capita più, lo sai? Lo sai, è vero che una così non ti capita più Paola, ascolta! Ho conosciuto una ragazza, mi sembra di conoscerla da una vita Oh, che bello! Ma non ti sembra strano che dopo un mese non sai niente di lei? Cosa sta dicendo la mamma? La ragazza più bella del mondo arriva a casa tua e ti chiede lo zucchero e poi dopo un'ora si dà a letto Come me la chiami sta cosa? A me sa tanto di amore a prima vista A me sa tanto di truffato un anziano Ma che bella sorpresa Lui è mio papà, lei è mia mamma, lui è Paolo di cui sai già tutto Lei è... Silvia Vai! Con me ci sta un corpo Un corpo vero Non sei tu che ti fai essere da sola, eh? E' la segreta campazzita che fa ogni spagna Prossù! Buongiorno ragazzi Prossù, ma... che state facendo? Non è che noi professori siamo entità asessuate, eh? No, no Solo che ovale... C'è... ovale è strano Che la la... che la la... Comunque vogliamo fare un matrimonio tranquillo Con pochi invitati, anche per sparmiare, no? Sì, e se le amiche di Silvia sono come lei, sicuro risparmiate sul canale.